buongiorno amici in questo video andiamo a vedere delle operazioni basilari prima di aggiornare al nuovo sistema operativo come vedete io ho installato mac os moavi che è l'ultimo sistema operativo disponibile sul mac questo discorso vale anche comunque per i computer quindi prima di aggiornare il computer a un nuovo sistema operativo fare degli aggiornamenti bisogna fare delle operazioni che sono basilari ma sono molto utili prima di tutto dovremo andare a liberare spazio sul nostro computer quindi cosa vuol dire liberare spazio liberare spazio vuol dire eliminare tutti i file inutili che si rallentano il computer e portano via solo spazio perché il nuovo sistema operativo ha bisogno di spazio quindi di solito sono 5 6 gigabyte minimo sul disco poi andiamo a risolvere eventuali problemi quindi problemi al computer problemi di applicazioni che non si aprono problemi che abbiamo riscontrato al nostro computer dobbiamo risolverli poi dovremo fare un aggiornamento all'ultima versione del sistema operativo che attualmente stiamo utilizzando quindi se io avevo axr aggiorno all'ultima versione di axr scarico tutti gli aggiornamenti fatto questo bisogna fare una cosa fondamentale che è il backup facciamo il backup dei nostri dati perché non si sa mai nel caso che eseguendo l'aggiornamento vi siano problemi abbiamo il nostro backup a disposizione quindi importante fare il backup a quel punto aggiorneremo al nuovo sistema operativo quindi dobbiamo metterci in un posto in cui abbiamo una connessione wifi o comunque internet abbastanza veloce che vi consiglio a casa o al lavoro vi sconsiglio di aggiornarla così in connessioni pubbliche quindi in bar alberghi eccetera cercate una connessione che sia sicura a quel punto andiamo ad aggiornare il sistema operativo per fare le operazioni che vi ho descritto prima quindi pulire il mac liberare spazio controllare risolvere problemi io vi consiglio un'applicazione un'applicazione chiamata clean my mac in questo caso la versione 10 quindi la x perché vi consiglio questo questa applicazione che è disponibile sia per mac che per pc avrete molti di voi l'avranno già sentita nominare è un'ottima applicazione che fa un po tutto quindi è un'applicazione che racchiude al suo interno molti tool per fare la manutenzione del proprio computer il tool principale è la scansione smart quindi senza andare a perderci in tutte queste opzioni che poi andremo a vedere se noi facciamo già una scansione smart lui cosa fa mi libera spazio pulisce libera elimina dei file inutili che ci portano via spazio e lo spazio sul computer di oggi è molto importante perché i file sono sempre più grandi e lo spazio è sempre poco come vedete io libero solo 49 mega 47 mega perché l'avevo già fatto prima la protezione quindi ha controllato se c'erano dei malware delle minacce e sono a posto non ci sono e la velocità aumenta le prestazioni del sistema tre attività da eseguire facciamo avvia esco da safari come vedete ha liberato spazio ha eseguito degli script di manutenzione cancellato la cache dns e sta liberando la ram sempre molto importante la ram perché se abbiamo più applicazioni aperte allo stesso tempo oppure applicazioni molto pesanti sul nostro computer la ram è fondamentale quindi bisogna fare in modo di sfruttarla al massimo come vedete ha eseguito queste tre attività noi potremmo eliminare solo i file abbiamo la possibilità di eliminare ottimizzare i dati della libreria foto rimuove tutti i dati che non hanno a che fare con le tue foto attuali rimuove la cache locale di cloud gli allegati di mail itunes mi trova dei dati di os obsoleti quindi dei vecchi backup che avevamo fatto e che portano via tantissimo spazio sul disco quindi se noi avevamo un un telefono due tre quattro anni fa e non ci siamo ne abbiamo comprato uno nuovo abbiamo fatto il backup di quello nuovo ma i backup di quelli vecchi sono rimasti e sono decine e decine di gigabyte rileva dei download danneggiati che non servono vengono cancellati abbiamo già visto la rimozione dei malware la protezione dei dati quindi cancella le cronologie e ripulisce i dati della chat esegue una manutenzione specifica quindi reindicizza spotlight e qui ci dice che cosa fa perché dovrei utilizzarlo diminuzione generale del prestazione di ricerca come mai non mi trovo i file come mai è lento clicchiamo qui avviamo e lo reindicizza ripare i permessi del disco perché dovrei riparare i permessi del disco me lo dice lui vi dice che cosa fa questo tool e mi dice quando lo devo utilizzare funzionamento non corretto di applicazioni spostamento eliminazione di file non possibile vi sarà capitato di sicuro di voler cancellare dei file e vi dice non si può cancellare questo file perché il sistema lo sta utilizzando impossibile cancellare il file andiamo qui e risolviamo il problema eseguire iscritti manutenzione come avete visto l'aveva già eseguito nella scansione smart quindi funzione utile che non grava sulle prestazioni può essere usata sempre tutti i giorni perfetto abbiamo liberato la ram sempre nella scansione smart abbiamo cancellato la cascata dns perché bisogna cancellare la cascata e me lo dice lui quando l'apertura di alcuni siti impossibile non mi apre i siti la rete rallenta quindi abbiamo dei rallentamenti casuali a random mentre stiamo navigando ecco perché bisogna cancellare la cascata possiamo fare solo questo oppure possiamo fare la scansione smart e lui lo farà di default una funzione molto importante è la disinstallazione quindi possiamo disinstallare le applicazioni in modo sicuro e completo quindi non soltanto trascinando l'applicazione dalla cartella applicazioni al cestino perché alcuni file rimarranno comunque nel nostro computer quindi cosa faremo andiamo a selezionare l'applicazione che vogliamo disinstallare e facciamo disinstalla ci eliminerà tutti i file relativi a quell'applicazione molto utile file grandi e vecchi questo anche questo è utilissimo se noi facciamo scansiona lui ci troverà i file che sono all'interno nei meandri delle cartelle del nostro computer che portano via tantissimo spazio come vedete l'itron library mi porta via 3,2 giga ad esempio questo frame che non so cosa sia mi porta via 347 megabyte calcolate che io l'ho già utilizzato quindi c'erano dei file addirittura di 3 4 5 giga che io non sapevo nemmeno di avere non ricordavo nemmeno di aver scaricato o creato quindi a volte dei file creati da premier o da final cut sono dei file davvero grandi che potrebbe essere utile eliminare se non ci interessa di avere dei backup oppure di fare un backup e fare dei backup su a disc esterni liberando tantissimo spazio quindi questa è una grandissima funzionalità individuare i file grandi e vecchi come vedete se io clicco col destro mi dice mostra del finder selezionalo visualizzazione rapida vedere che cos'è e aggiungi la lista da ignorare quindi se dei file io li voglio mantenere lui non me li troverà più non mi dirà più quel file che pesa 4 giga potresti eliminarlo no non lo trovo perché a me interessa mantenerlo quindi io vi consiglio di provarlo clean my mac perché è un software davvero fatto bene soprattutto un software che continuamente aggiornato ottimizzato e molto seguito dai suoi sviluppatori quindi non è un software che voi scaricherete e poi non verrà aggiornato per mesi e mesi ma è continuamente aggiornato io vi consiglio di provarlo vi lascerò il link qui in descrizione per una prova che potrete fare gratuita lo potete utilizzare per sette giorni e quindi in sette giorni potete fare tutta la manutenzione del computer che volete se poi vi interessa lo potrete anche acquistare comunque nel link in descrizione vi lascio questa prova gratuita assolutamente gratuita non dovete pagare nulla e avrete le funzionalità complete di questa bellissima applicazione di questo bellissimo software io vi ringrazio per la visione di questo video andate a provate clean my mac io ve lo consiglio e io vi aspetto al prossimo video se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace fate un commento e iscrivetevi anche il mio canale grazie e alla prossima ciao amici